Tele Blu si è messa in evidenza nel panorama giornalistico regionale. Ieri mattina infatti, nella sala Murat di Piazza del Ferrarese a Bari, il nostro collega Piero Russo ha ricevuto il premio giornalista di Puglia Michele Campione per la sezione Cultura, Costume, Società. Il servizio con cui il giornalista di Tele Blu si è giudicato l'ambito riconoscimento è quello sull'unica barbiera di capitanata realizzato a febbraio dello scorso anno. Durante la cerimonia organizzata dall'Ordine dei giornalisti della Puglia, dalla Regione Puglia, dal Comune, dalla Provincia, dall'Università di Bari e dalla famiglia Campione, Russo ha evidenziato l'importanza della valorizzazione dei piccoli spaccati di vita, delle realtà dei comuni più piccoli come quelli del Gargano, che il prossimo anno potrebbero non avere più voce a causa del decreto Mille Proroghe sull'editoria che costringerà centinaia di piccole emittenti private a chiudere. Piero Russo è stato l'unico giornalista della provincia di Foggia a ricevere il premio Campione 2010.